Poessoa dà coordinate che rimettono in prospettiva, che ti permettono di stare con i piedi per terra. Quella di Poessoa è una poesia che ti riporta con i piedi per terra, che sembra un controsenso. Noi, la poesia deve farti sognare. No, la poesia è anche un atto di rottura delle illusioni, pur essendo una grande illusione. Ovviamente la poesia è regina del linguaggio e il linguaggio è illusione, quindi regina dell'illusione delle illusioni. E credo che sia importante, sia stato importante per me in realtà, leggerlo quasi contemporaneamente a Majakowsky. Perché avete sentito Majakowsky, questa grandezza, questa folgore e via dicendo poi. Majakowsky pieno di romanticismo, anche rivoluzionario. Majakowsky era dentro fino al midollo nella Rivoluzione Rossa, quindi insomma uno veramente vivace e focoso. Quello di Poessoa invece ha una spinta uguale e contraria a quella di Majakowsky. Quindi è stato veramente quasi un antidoto a Majakowsky.